A 100.000 mi piace colorerò i capelli a violetta mi vendicherò E ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter e finalmente siamo tornati con una nuova Challenge in love Ovviamente con me c'è violetta come al solito Ciao a tutti Oggi ci sarà una sfida speciale perché come vedete abbiamo un sacchetto Misterioso E dentro questo sacchetto ci sono Dei bigliettini Contenenti delle cose da fare Ma attenzione perché queste cose Saranno decise dai ringotin Ovviamente quelli al cioccolato E io quelli alla vania che mi piacciono di più Sono i nuovi biscotti sottili e croccanti Ma attenzione perché ci potranno essere Delle cose super fighissime Ma anche qualche cosa un po' meno E ragazzi sponici al più non posso Per altre challenge di questo genere Consigliatecele nei commenti Siamo pronti ad aprire e a cominciare la sfida Io sto a chiesto i pacchetti su FIFA E io sto a chiesto i biscotti Ci sono 6 biscotti all'interno Quindi 6 fogliettini da pescare Sei pronta? Avrò anche i miei Eh certo Pronti a iniziare la sfida? Cacao di aniglia Io ho aniglia Vado eh Ma non barare Ma come facci a barare? Non è solo solito Ovviamente sei te quella che bari Comunque 3, 2, 1 Eh io ce l'ho visto Eh ma io faccio così E allora? E allora il cacao Tocca a te Una cosa che favorisce me Quindi Violetta è uscito shopping E' pronta a spendere i soldini per me? Eh beh ti pareva Cominciamo così Shopping vuol dire che mi devi fare un regalo Però lo scelgo io il regalo No No E come no No Come io volevo da tanto quella cosa che tu sai Andiamola a prendere No Allora acquistiamo il tuo regalo eh Eh vai 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 Allora ho questo? No 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 tutte e due Dai Sì tutte e due Uno devi scegliere No Però lo prendi eh Eh vedo l'ho aggiunta al carrello Compra Lo sta facendo Non ci credo Non fatto Grazie Oh famone più spesso queste sfide Prossima sfida Grazie Violetta non dovevi Anzi dovevi Ma adesso io riscelgo cacao E quindi Ma tu aspetta Prima di iniziare tu fai così Eh dipende Eh no è perché lo vedi E allora gira Pronti? Sì Cacao Ma vieni Ragazzi Vediamo cosa succederà Ah in questo sacchetto C'è anche il bonus Quindi oltre a tutte le cose Ci sarà anche un bonus Super positivo Vediamo se ho pescato il bonus Oh No Ho pescato addominali Quindi Quindi Cosa che Mi devi fare a te No Sì Come funziona la sfide Io non ho capito Cioè quando vuoi tu Fai le cose due E quando non ti compiere E certo le cose positive Sì ve le faccio io Ovviamente 25 Ok Sei pronta? No Sì Fali Intanto le mangio Questi tuoi Ah pure Mi si fatico Te li mangio in faccia Sei pronta? Dai sei solo al quinto Alcriventi Vai Cinque Oh l'ha fatta L'ha fatta Missione compiuta Che fatica Terza sfida Ma poi pescherò anche io qua dentro Chi lo sa Ho visto? Sì Vaniglia quindi devi pescare Sapesco io finalmente Instant stories No Quindi farò un instant stories sul tuo profilo Humiliante ovviamente No Violetta non lo pare Quindi se avete visto un instant stories strana Ora sapete perché Ciao ragazzi sono qua perché Dexter deve dirvi qualcosa E io l'ho obbligato a farlo Vediamo un po' Niente ragazzi sono andato in bagno e Il salato a schifo per favore Che di più Leva dai Leva Leva Sono stata molto cattiva con me lo sai Anche tu prima No ma io che ho fatto? Eh gli addominali E t'ho fatto spendere i soldi più che altro Ecco diciamo la verità Tocca a te lanciare Io cerco sempre cacao Mi prenoto Insomma Una rotazione un po' Caffiata Vaniglia Tocca di nuovo a me Non vedere Ma che cavolo fai? Hashtag nei commenti Violetta Abara Per favore No mica Hai fatto così Vabbè che i biglietti sono chiusi Però Il bonus Sicuro No no Stai attento a te Mi vendico Già lo so Colorarsi i capelli E lo farai tu ovviamente Pronti? No Citando un qualsiasi youtuber Io questo video Non lo volevo fare Abbiamo giallo e verde Quindi super saian Col verde Sono pronto a sbloccare il super ultra istinto Ho paura Non lo volevo fare Ragazzi Ve lo giuro A cento mila mi piace Colorerò i capelli a violetta Mi vendicherò Un momento Dalla regia Musica ultra istinto Grazie Grazie Musica Ho paura a guardarmi Ve lo giuro Musica Ragazzi Ho sbloccato L'ultra istinto Dexter Se volete Fate uno screen di questo video Postatelo su instagram E vi metterò il cuore Perché Sono io il vero super saian Ultra istinto Remastered Bokobo Comunque veramente Io questo non lo volevo fare Non ho parole Veramente Guarda che capolavoro Che ti ho fatto Tutto il ciuffo Biondo Cento mila Le faccio io Però veri Adesso sono pronto A tirare il biscotto Sperando che esca Cacao Perché io riscelgo Cacao Anzi Scelgo vaniglia Stavolta Bene Non è bene Benissimo Perché ho scelto vaniglia Penultima challenge Solletico Quindi faccio il solletico No non lo so Il solletico E allora E allora lo faccio io No Lo soffri Tutto a me alla fine Le sfide Ultimo Il bonus Il bonus Non è una cosa Super figa Super positiva Per uno dei due Chi riuscirà a prenderla Cacao Ma sei cacao Sì E l'altra volta Ho detto vaniglia Ma fregata Pronto Per l'ultima Ciao ciao E vai Come vedete Sono finiti E ovviamente Sarà Bonus Ovvero Spendere altri soldi Di violetta Perché adesso Mi andrò ad aprire Cinque pacchetti Su altimenti Pacchetti bonus Speciali Paga Proprio Cinque pacchetti Rimasti Questo è un bel bonus Primo pacchetto Sperando di trovare Messi Infatti Fa schifo Però almeno Sono cinque pacchetti Pagati da violetta Torres Butto tutto Secondo pacchetto Pagato da violetta Niente Via Butta Terzo pacchetto Dai almeno un walk out Dai Sì Sì banderine Chi sei Chi sei Oddio No non è Suarez Ma è Godin Mai Ci bene Dai due pacchetti Sono rimasti Un bel giocatore Fammelo trovare Ok Altre banderine Ultimissimo pacchetto Grazie violetta Per questi pacchetti Anche se non ho trovato niente Ma vediamo All'ultimo pacchetto Magari succede qualcosa No Non è successo niente Ma chi se ne frega Ha pagato violetta Ciao Bene ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Fatemi sapere con tanti like Ricordiamo 100.000 mi piace Capelli rosa Veri per violetta Li ritingo io Ringraziamo ovviamente Ringo Team Per questo video Iscrivetevi quindi Al canale Se ancora non l'avete fatto Passate anche dai social Di violetta In descrizione Grazie Se volete Noi ci vediamo prestissimo A un nuovo video Vi mandiamo un abbraccione Un salutone Un capello colorato E ci dici Ciao gente Ciao Ecco è arrivato il tuo pacco E vai Grazie Eh ringrazia Un sacco di soldi Che mi ha fatto spendere Ho capito La sfida l'hai persa da te però Mamma tu E vai E quello che volevi Sei contento Molto Thank you